Al Campania Teatro Festival va avanti fino al 21 giugno la sezione letteratura. Ce ne parla Anna Teresa Damiano. Laggiù, nelle foreste della notte, c'è la tigre di Blake che brucia e splende. Baudelaire diceva laggiù è tutto calma, volutà, luce, no? Naturalmente non è sempre così, ci sono andi rivieni delle possibilità, ma noi insomma interpretiamo il laggiù come il desiderio di raggiungere qualche cosa che ci sfugge. La parola guida del 2021 è laggiù per la sezione letteratura del Campania Teatro Festival che fino al 21 giugno ci accompagnerà tra le grandi voci della poesia contemporanea da Luis Gluck a Sandro Penna. Il primo appuntamento è un viaggio tra Napoli e Milano, tra l'energia visionaria di Salvatore di Natale e l'omaggio a Franco Lois comparso lo scorso gennaio che diventa un blues. Nell'era dei social e dell'effimero è il poeta Giuseppe Conte nato a Imperia, ma con un forte legame con Napoli dove pubblicò la sua prima raccolta a ricordarci che i versi non hanno paura dei tempi, anche in tempi che sembrano ripudiarli. La poesia è una forma di resistenza spirituale rispetto ai tempi, è la domanda profonda che l'uomo fa al proprio essere, al proprio destino umano, ma anche al destino proprio di abitanti del pianeta.